Signor Sindaco, i giovani devono decidere da che parte stare, con chi è giusto al mondo o con chi segue esempi scellerati? Ma è così, è un po' l'impressione che credo abbiamo tutti noi oggi che ci sia una divaricazione profonda tra quelli che faticosamente cercano il bene della comunità e qualcun altro che invece porta la comunità su strade sbagliate. Ora, noi abbiamo la nostra età e quindi la scelta l'abbiamo fatta molto prima. Penso ai giovani perché sono spesso in condizioni di dover fare questa scelta e certamente povertà e ignoranza non aiutano ma per questo motivo è giusto anche in qualche modo utilizzare questi ricordi di persone come Paolo Scofani per convincere i giovani che la giustizia e l'umanità devono sempre vincere.